Firmano per il governo italiano il ministro dei beni e dell'attività culturale, onorevole Sandro Bondi. Per il governo del Turkmenistan, signora Maesa Yasmuhamedova, vicepresidente del gabinetto dei ministri del Turkmenistan. Per la verità, i quattro accordi volevamo io e il ministro dell'economia Tremonti suggerirne un altro, da firmare subito. Chesno говоря, io e il ministro Tremonti, mi chiedevi сразу бы consiglio di подписare un accord di scambio, noi vi davamo il nostro ministro dei beni culturali e voi ci davate la vostra ministra dei beni culturali. Grazie per la verità, grazie per la verità.